ciao amici sarete d'accordo con me tra le verdure simbolo dell'estate ci sono le zucchine esatto indovinato l'estate è il momento migliore ci sono le zucchine di stagione cresciute con il caldo sole estivo verdi e profumate oggi vi svelo un trucchetto della nonna per portare il sapore delle zucchine anche nei mesi freddi conservando le migliori zucchine dell'estate se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video oggi facciamo le zucchine sott'olio farle d'estate è una buona idea non solo perché le zucchine sono migliori ma anche perché abbiamo più tempo per dedicarci al fai da te e alle cose che ci piacciono ecco la procedura preparare i barattoli i barattoli devono essere di vetro e piccoli così una volta aperti finiscono prima il primo passo è sterilizzare i barattoli per evitare che le zucchine vadano a male dopo aver lavato barattoli di vetro e coperchi lasciarli immersi in acqua bollente a fiamma bassa per 30 minuti mettere sul fondo della pentola un canovaccio pulito per non rischiare di rompere i vasetti lasciarli raffreddare in acqua poi asciugarli bene scrupolosamente preparare le zucchine cosa ci serve ecco qui un chilo di zucchine 750 ml di olio extravergine di oliva 500 ml di acqua naturale 300 ml di aceto bianco due cucchiai di sale grosso a piacere due spicchi d'aglio pepe in grani menta fresca sale fino un peperoncino lavare le zucchine tagliarle a rondelle o striscioline appoggiarle in uno scolapasta e coprirle con il sale grosso lasciare riposare per due tre ore coperte da un piatto con sopra un peso così perderanno la maggior parte dell'acqua dopo averle sciacquate lasciarle asciugare su uno straccio pulito unire l'acqua e l'aceto in una pentola fare bollire aggiungere un pizzico di sale scottare le zucchine per tre quattro minuti con una schiumarola raccogliere le zucchine disporle su un telo pulito farle raffreddare e lasciarle asciugare intanto lavare le foglie di menta e l'aglio e scottarli nella stessa acqua invasare le zucchine nei vasi di vetro fare uno strato di zucchine ben pressato alternato con uno strato di foglie di menta aglio pepe e peperoncino a piacere riempire il barattolo fino a lasciare un dito di vuoto dalla cima riempire di olio fino a coprire bene tutte le zucchine chiudere e lasciare i barattoli capovolti per creare l'effetto sottovuoto se sono venuti bene premendo il tappo non si deve sentire il clic clac tenere in un luogo fresco e asciutto lontano dai raggi del sole per due tre mesi quando le aprirete sarete investiti dalla fragranza delle zucchine come appena comprate in estate piaciuta la ricetta provatela subito e per vedere tanti altri video come questo basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e vivi meglio diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri ed ebook per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao